Luogo di spiritualità, formazione e scambio di sapere. Il seminario gregoriano di Belluno, dove ha sede anche il polo didattico locale dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I, dove in questi giorni si stanno svolgendo le giornate di scuola aperta, è pronto ad aprire le porte a chiunque sia interessato a conoscere il percorso formativo e la comunità accademica. Anche nella nostra diocesi c'è la possibilità di fare un percorso universitario di approfondimento della fede attraverso gli strumenti tipici della teologia e l'Istituto di Scienze Religiose. Giovedì 18, martedì 23, giovedì 25 maggio dalle 18 alle 21.55 e sabato 20 maggio dalle 8.15 alle 12. L'Istituto apre dunque le porte alla cittadinanza. Sarà possibile incontrare studenti ed insegnanti, assistere ad alcune lezioni, apprezzare l'ambiente in cui è sede l'Istituto e farsi un'idea delle discipline disponibili. Sono l'occasione per far vedere come funziona un istituto universitario, una maniera anche per entrare un po' nell'ambiente, vedere i volti, vedere le persone, perché un conto è un sito internet, un conto è vedere le persone all'opera.